Buongiorno, benvenuti a questo incontro, il secondo incontro promosso insieme all'Intergruppo per la Sussidiarietà che segue quello di ieri che ha visto la partecipazione di parlamentari iscritti all'Intergruppo e la presenza del Governo con il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Presento subito gli ospiti di oggi partendo dall'Onorevole Luigi Marattin che vedete alla mia destra, l'Onorevole Speranza, la Presidente Barbara Saltamartini, il Vice Presidente Rampelli alla mia sinistra e poi scopriremo nel corso dell'incontro la presenza del Presidente Conai, e il Dottor Quagliulo che vedete a fianco al Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Gittadini, che è presente anche ieri all'incontro appunto appena citato. Come ho ricordato, questo incontro che segue quello di ieri che per chi era presente ha avuto modo appunto di ascoltare anche le ragioni della nascita, della riproposizione, della ricostituzione dell'Intergruppo per la Sussidiarietà. Qui in platea c'è uno dei promotori proprio all'inizio, l'Onorevole Maurizio Lupi, che saluto e ringrazio per aver rilanciato e fatto ripartire l'Intergruppo. In questo momento appunto le considerazioni che sono state fatte da oramai credo oltre 200 parlamentari che hanno aderito e che hanno poi pubblicato un manifesto che si sono dati e che hanno redatto proprio per spiegare le ragioni di questo impegno trasversale, quindi interparlamentare appunto come dice il nome, sul Corriere della Sera, apparso qualche giorno fa proprio il manifesto, prende le mosse dalla considerazione che oggi in un mondo globalizzato non ci sono isole, nessun paese è un'isola tantomeno il nostro paese e che quindi non si può soltanto da un lato assistere passivamente a ciò che sta avvenendo a livello anche economico e cioè il fatto che ci siano dei paesi che un tempo erano paesi cosiddetti in via di sviluppo che oggi giustamente e legittimamente stanno crescendo, assorbono risorse e producono anche ricchezza e occupano degli spazi che prima erano occupati soltanto da alcuni di questi paesi più sviluppati e quindi questo è un dato di fatto e non se ne può. Dall'altro ci sono anche delle considerazioni che questi parlamentari hanno scritto all'interno di questo documento che riguardano delle crisi strutturali che ci sono state negli ultimi decenni, una su tutte, perché poi invito a cercare il documento che comunque è pubblico, un indebolimento. Ieri il sottosegretario Giorgetti parlava, se non ricordo male, di sclerosi, di cosiddetti corpi intermedi, di queste aggregazioni, di queste realtà, sindacati, associazioni di imprese e quant'altro che negli ultimi decenni hanno contribuito invece alla saldatura sociale, hanno contribuito alla prosperità e al successo anche del nostro paese e che quindi non sono più questo collante e c'è un momento di difficoltà. L'Intergruppo ha individuato alcuni temi che partano appunto da questo recupero dell'impostazione sussidiaria. Tra questi temi ce n'è uno in particolare che è l'oggetto dell'incontro di oggi e che è il Sud. Gli altri, ve li cito, ma sono le imprese, l'emergenza educativa, tanto ripresa ieri anche dal sottosegretario ma dagli altri partecipanti, l'accentuazione sul nuovo sistema di welfare e la necessità di rivedere il sistema dell'istituzione dell'autonomia. Venendo nel merito dell'incontro di oggi e quindi il Sud e quindi quale futuro per il Sud, prima di dare la parola al Presidente Vittadini che prenderà spunto nella sua introduzione per favorire il dibattito dal rapporto che la Fondazione per la Sussidiarietà ha pubblicato quest'anno, tra l'altro uno dei curatori qui, vedo il professor Brugnoli, l'altro è stata anche la professoressa Garrone insieme ad altri, tanti altri esponenti sia del mondo accademico che politico. Sottolineo questo, io penso che il Presidente Vittadini poi lo dirà meglio, lo preciserà, lo esploderà. Occorre sicuramente un cambio di punto di vista nell'affronto del tema del Sud, un cambio quindi non più come un'area periferica ma come centro di un nuovo sistema globale, appunto riprendendo quanto detto in precedenza, occorre anche un cambio di metodo. Ieri è stato detto da più relatori, in particolare dal sottosegretario Giorgetti, che occorre avere un sistema differenziato anche a livello regionale e qui probabilmente il rapporto lo dice, sarebbe interessante il dibattito magari anche su questo, passare dal puntualizzazione del federalismo fiscale a una sorta di federalismo culturale, quindi una differenziazione, un regionalismo differenziato anche per diversità culturali. E poi c'è un tema ed è il motivo per il quale abbiamo invitato anche il Presidente di Conai, che c'è un filo conduttore che sta emergendo e che potrebbe essere utilizzato come chiave di sviluppo, che è l'enorme attenzione al tema della sostenibilità che in questi ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio, sta diventando anche un punto fondamentale del business model di molte aziende che quindi potrebbe, coniugato col principio di sussidiarietà, dare impulso a questa ripresa del Sud. Detto ciò, io passerei la parola a Giorgio Vittadini per l'introduzione, la sua relazione introduttiva ai lavori di questa mattina. Allora, adesso facciamo partire le slide. La relazione mette in luce, sintetizzando il rapporto, due cose, l'emergenza del Sud, ma anche la grande possibilità che certe condizioni che si stanno verificando mettono come possibilità di cambiamento. Cominciamo da un primo livello, la crisi demografica. Vediamo innanzitutto la popolazione residente al Sud oggi e quella prevista fra 20 anni. Vediamo questa diminuzione di addirittura un milione e mezzo di persone che ancora vuol dire anche invecchiamento della popolazione e vuol dire anche, andando avanti ancora nel tempo, pensate, una diminuzione di 5 milioni di persone in 50 anni e un aumento dell'età media da 43 a 51 anni. Voi sapete cosa vuol dire la crisi demografica, vuol dire anche una crisi economica perché se lavora meno gente, c'è meno gente che può mantenere le persone anziane, c'è meno gente che può investire in educazione, c'è mancanza di risparmio, c'è impoverimento. Quindi vuol dire che se abbiamo già una condizione, che è una condizione pesante, di crisi verticale. Secondo tema, questo è anche il deoperamento del capitale umano. Vuol dire una... Voi sapete che ormai è entrata in vigore la valutazione delle scuole, viene fatto a livello internazionale e anche a livello nazionale, prima con le invalsi e purtroppo noi abbiamo delle rendimenti qualitativi che sono al sud inferiori a quelli del centro e del nord e inferiore della media Ocse e questo conferma i dati già a livello internazionale della indagine Ocre-Pisa. A questo si aggiunge che la percentuale di giovani che abbandonano gli studi è maggiore al sud che al nord, meno quelli con l'istruzione universitaria e la percentuale di laureati è ancora peggiore. Allora voi capite che uniamo al tema del deoperamento la mancanza della classe dirigente, una minore persona istruite e oggi l'istruzione fa rima con economia, meno istruzione meno economia. Oltre a questo c'è anche un nuovo fenomeno che ha ormai una rilevanza statistica, la migrazione interna. Milano che non era una città di fuorisede, oggi è una grande città di fuorisede molti meridionali perché i giovani migliori emigrano dal sud al nord, non perché le università del nord siano mediocre, anzi ci sono università con un'enorme tradizione e anche enorme valore, ma con l'idea di aver paura di perdere il lavoro studiano al nord o fanno la specialistica al nord, questa è tutta gente che non contribuerà allo sviluppo del sud. Povertà, il tasso di povertà assoluta e il tasso di povertà relativa, pur ridotto, è molto superiore a quello del centro e del nord e a livello territoriale è in aumento delle periferie, delle aree metropolitane nei comuni con più di 50 mila abitanti. Si sverifica in piccolo, quello che si riverifica a livello mondiale è che le nuove povertà sono le aggregazioni cittadine, come nelle grandi megalopoli dell'Africa, in piccolo questo si verifica anche al sud. E tema dell'occupazione, che è il 44-8%, 20% in meno del centro Italia e nord Italia, peggiore in Europa, con un tasso di soccupazione molto più alto. Quindi vedete che mettiamo insieme la crisi demografica, la crisi di capitale umano, con l'emigrazione, la povertà, l'occupazione, che soprattutto è a livello giovanile, che pur diminuita al 46%, siamo sempre al 15% su più del centro e del nord, dice la situazione che esiste, aggiungo sull'emergenza giovani, che il dato che dicevo prima del maggior abbandono sono il 1.800.000, cioè il 60% dei nid, quelli che non lavorano, non studiano, sono al sud e molti condividono ancora con i genitori o con uno di essi lo stesso tetto, non si staccano, il 67% dei giovani celibi e nubili. Allora, detto questo, uno si potrebbe mettere le mani ai capelli, questo è un indice che abbiamo costruito, in cui si vede anche la differenziazione territoriale, perché il sud non è omogeneo, ci sono zone, quelle più oscure, che sono migliori, l'Abruzzo, certe zone della Puglia, certe zone della Sicilia, altre in cui la situazione è molto peggio, quelle più chiare. Allora, a questo punto, cosa fare? Uno direbbe che è una crisi verticale, è una crisi verticale se non mettiamo mano a qualcosa di radicale. Al di là dei temi di attualità e di breve periodo, reddito di cittadinanza o altro, noi abbiamo chiamato Federico II l'ipotesi di intervento che è possibile. C'è innanzitutto una questione che vuol dire l'idea del sud-centro del Mediterraneo, perché Federico II, come sapete, è l'imperatore nato a Iesi, terrenore tedesco, che portò la capitale dell'impero a Palermo, intuendo allora che quella era l'area centrale dell'Europa, l'area di incontro tra ebrei, musulmani e cristiani, un'area che poteva avere un'importanza enorme. Adesso guardate dov'è il nostro sud. Il nostro sud è al centro, anche geograficamente, di una zona di paesi il cui invece tasso demografico è tale, per cui il 50% della popolazione è sotto i 30 anni. E' sotto tutti i paesi che vogliono svilupparsi. E l'interscambio che noi abbiamo con questi paesi è più alto di quello con la Cina. C'è tutto il tema terrorismo o altro, ma questi sono paesi che sono sviluppati, in cui noi questi sono i punti centrali. Ma adesso dirò anche altri aspetti. C'è innanzitutto un fatto strano, in questa prima ripresa economica, mini ripresa di questi anni, è stata più al sud che al nord, nelle esportazioni, domanda interna, PIL, aumento di turisti, start-up innovative. Allora, perché questo piccolo flebile segno può essere strutturale? Come? Allora, appunto dicevo, se noi, mi rifaccio a quello che veniva detto dietro, per esempio dall'onorevole Romeo, che parlava della sussidiarità verticale, e poi ripreso anche da Giorgetti, da Del Rio, da tutti, dalla Gelmini, noi possiamo pensare a un'Italia unita, però differenziata, in cui il nord dialoga con la mite d'Europa. Ma il sud va a trovare le sue qualità in questa situazione, per quali ragioni? Prima, c'è un fatto che si sa e non si sa, chi lo sa lo sa, ma molti non lo sanno. Negli ultimi anni è stato allargato Suez, e quindi le grandi navi possono venire nel Mediterraneo. Questo vuol dire che dopo 500 anni il Mediterraneo può tornare centrale, perché invece di fare il periplo dell'Africa, le grandi navi che portano merci dal Far East possono venire nel Mediterraneo. Lo stanno capendo i tedeschi che attraverso tutta la questione della Grecia si sono presi i porti greci, e i cinesi, c'era ieri sul giornale, che vogliono prendere il porto di Trieste. Cosa vuol dire? Vuol dire l'idea che tu puoi invertire il traffico e dire che con meno costi e meno merci, e meno tempo, puoi portare le merci che vengono dal Far East, che adesso è industrializzato, verso il nord Europa. Certo che cosa c'è bisogno? Porti, infrastrutture e ferrovie. Perché se arrivi a Gioia Tauro e poi ti mancano i tre chilometri per arrivare alla ferrovia e non hai le ferrovie per i merci, non è che le ferrovie servono meno che gli autobus. Cioè voglio dire, le ferrovie servono per portare le merci e eliminando anche la gomma con tutti i problemi che ha, e questo vuol dire la possibilità che il sud diventa centrale dal punto di vista dei commerci, oltre alla grande via della seta. Ma questo è un altro modo. Questo quindi primo tema, porti, infrastrutture, energia. Sapete tutta la polemica sulla TAP, ma noi abbiamo al 40% in più del costo dell'energia, qualcosa bisogna fare. E il sud però può essere anche per le ragioni dette al centro, oltre che tema oleodotto, che si può fare anche senza distruggere gli olivi, abbiamo tutti i mezzi per farlo, gasificatori, e poi eolico, e fotovoltaico, col sole che c'è, perché non lo sfruttiamo. Per le energie alternative, mi dicevano anzi, che stanno proliferando le piccole imprese che lavorano in questo. Evidentemente questa è una grande occasione ancora strutturale. Terzo tema, Università del Sud. Io ho detto più volte, se io fossi il ministro dell'istruzione a qualcosa, investirei, dico una cosa scandalosa, pagando borse di studio e soggiorno a tutti gli studenti del Nord Africa per studiare nell'Università del Sud. Non per un particolare filantropia, ma per il fatto che se questi vengono a studiare da noi, invece di studiare a Parigi o a Londra, questi paesi si legano a noi. E noi abbiamo Università, pensate Palermo, pensate Napoli, pensate Lecce, pensate Catania, antichissime, con professori avalidissimi. Vuol dire che noi possiamo diventare i formatori di questa gente. Corsi in inglese, corsi in francese. questi non sono spese buttate via, sono investimenti che riqualificano le nostre università, perché uno dei temi dell'internazionalizzazione che non funziona è che noi parliamo sempre di quelli che vanno fuori, ma noi dobbiamo diventare paesi che prendono altri. e difficilmente oggi gli anglofoni o i francesi o i tedeschi vengono da noi, ma noi possiamo intercettare questa nuova generazione e poi evidentemente investire nelle scuole per superare questi gap, perché i gap in un sistema che funziona non sono tra regioni, devono essere tra persone sulla base dello studio, della competenza, non tra regioni. Quarto tema, l'agricoltura di qualità, vi faccio un esempio, il Nero d'Avola, prima della crisi dell'etanolo il vino del sud era vino da taglio, poi, visto che nessuno lo comprava più, hanno inventato il vino di qualità, ma può essere, girando, presentando questo rapporto, scoperto dei consorzi di gente che produce gli agrumi di qualità, c'è lo zafferano o la liquirizia, c'è la possibilità di un'agricoltura di qualità che diventa alternativa usando le condizioni favorevoli, c'è una grande trasformazione in cui il meglio trasforma le culture estensive che rifanno i tempi dei romani a fare queste produzioni di qualità che possono andare in tutto il mondo. Certo ci vuole anche qui un grosso investimento, servizi forestali, la riqualificazione della foresta, i parchi che sapete benissimo che in America sono un'enorme fonte di reddito. Turismo di qualità, ditemi un posto nel mondo dove c'è un mare bellissimo, un interno stupendo, Pollino, la Spromonte, il Gran Sasso, la Maiella, eccetera. Poi avete arte, in America l'archeologia è un cucchiaio del Settecento, qui vuol dire che tu vai fino ai Fenici, quindi vai in montagna, vai al mare, vedi arte di tutti i secoli, il barocco, tutti i parchi che abbiamo cominciato a costruire, la cucina, la tradizione, ma voi capite che qui noi potremmo intercettare il turismo migliore del mondo? Certo, abbiamo bisogno anche qui di infrastruttura, come diceva un operatore turistico calabrese e lui da quando ha fatto una convenzione con gli inglesi ha bisogno di camerieri che sappiano l'inglese perfettamente, perché questi inglesi ogni giorno gli vanno a vedere la qualità, c'è un investimento anche in questo, ma pensate informazione cosa vuol dire una cosa di questo tipo, perché dobbiamo prendere solo il turismo povero, possiamo intercettare il turismo migliore del mondo che nessuno ha, nessuno ha queste cose, e poi la rete di piccole e medie imprese, uno degli autori del rapporto è Borgomeo che oggi è il presidente della Fondazione Sud che con Salverino De Vito diresse quella bellissimo progetto della legge appunto De Vito che ancora adesso ha delle realtà che sono sopravvissute dopo 30-40 anni, oggi che oltretutto la soglia di ingresso dell'impresa è crollata perché un po' di anni fa si diceva solo la grande impresa, oggi si è scoperto che la dimensione di impresa non è un fattore di blocco dello sviluppo, ci sono piccole imprese di altissimo livello qualitativo, aiuto alle start-up del sud di gente che usando anche i mezzi di internet può essere collegato in tutto il mondo, sfruttando queste capacità e quindi anche qui con gli aumenti infrastrutturali logistici uno di questi infrastrutturali certamente è il piano del digitale abbiamo sentito Piacentini il primo giorno questa è una cosa fondamentale se non hai internet non ti muovi più e la natalità evidentemente facendo questo rapporto abbiamo scoperto che l'investimento per esempio in asili nido al nord è 10 volte che al sud cioè è chiaro che tu devi aiutare la gente che fa famiglia qui noi parlare di famiglia vuol dire secondo me e questo mette d'accordo tutti anzitutto fare questi temi qualsiente familiare l'asile nido l'aiuto perché è vero che io sono il primo a pensarlo che si fa famiglia se ci si ama però evidentemente si fa figli anche quando si fa il conto di quello che si può portare allora voi capite che c'è tutto quando voi chiedete i soldi ma i fondi strutturali girando per le regioni io ho scoperto che usiamo il meno del 5% dei fondi strutturali europei per incapacità organizzativa parlavo con Manichedda che è un assessore sardo che verrà a parlare domani meno del 5% ma persino le marche noi abbiamo un sacco di soldi se ci mettiamo d'accordo se c'è un patto per lo sviluppo di tutte le forze senza beccarsi come i polli di Renzo per fare queste cose poi ci si divide su tutto io non sto dicendo che non ci vogliano interventi nel breve periodo di aiuto alla povertà ma qui gli interventi strutturali di questo tipo dovrebbero avere un patto come quello che c'è stato nel 1950 cui PC DC erano divisissimi ma si sono accordati sul aiutare la crescita economica quindi voi capite che noi abbiamo una situazione di estrema criticità ma abbiamo questa possibilità se ci si mette insieme attori pubblici e privati uno dei grandi temi è anche adesso l'autostrada ma dobbiamo collaborare cioè il pubblico e il privato può andare insieme è chiaro che il privato non può essere speculativo il pubblico non può essere clientelare ma si può mettere insieme il governo nazionale amministrazione regionale università reti di impresa realtà non profi movimenti associazioni questo tema questo metodo della collaborazione perché se si ha uno scopo comune si sa come collaborare noi dobbiamo avere lo scopo comune di far uscire il sud dal sottosviluppo ma come capite non è per diventare come dire succedali chiudo con la battuta tutti abbiamo deprecato la cassa del mezzogiorno ma dobbiamo dimenticarci che i primi 20 anni della cassa del mezzogiorno la cassa del mezzogiorno funzionava dopo è saltata perché funzionava perché allora c'era un accordo tra pubblico e privato perché si lavorava assieme e quindi non è che è sempre stato come si dice il punto in cui si costruivano delle imprese dove non si andava come a la mezza terme dove potete ancora andare a visitare questo investimento di mille miliardi per fare bioproteine che il giorno in cui si doveva cominciare a lavorare si chiuse perché scoprivano che erano cancerogeni e adesso è rimasta solo la Silagù che è un'impresa nata proprio con la De Vito si può invece costruire insieme allora secondo me un tavolo come quello di oggi è un auspicio per questo patto per lo sviluppo che deve venire prima secondo me anche delle divisioni politiche perché questo ha a che fare con un punto fondamentale del nostro paese grazie grazie a Giorgio Vittadini il cui intervento mi dà la possibilità di dire anche il ruolo che avrà la Fondazione per la Sussidiarietà di collaborazione e di supporto all'attività dell'intergruppo perché in questo caso uno dei punti dei temi fondamentali che l'intergruppo ha individuato è il Sud il caso comunque l'attenzione comune la convergenza comune ha voluto che fosse proprio l'oggetto del nostro rapporto della fondazione per quest'anno ma quello che faremo come Fondazione per la Sussidiarietà insieme all'ufficio studi della PwC che sarà affiancato a questo lavoro scientifico è quello di dar corpo da un lato verifica tecnica e dall'altro anche verifiche di fattibilità delle idee che potrebbero emergere dal dibattito dell'attività dell'intergruppo per la Sussidiarietà gli argomenti sono tantissimi punti toccati da Vittadini altrettanto sottolineo solo che nella relazione che ha fatto che è sicuramente tecnica economica ci sono degli spunti anche pratici molto interessanti c'è un richiamo anche al titolo del meeting perché lui ha fatto più volte riferimento a questa collaborazione a questo ripartire dal impressionante dati sui giovani ripartire dall'educazione tema emerso molto ieri anche nel dibattito dei vostri colleghi che hanno partecipato all'incontro dell'intergruppo ha parlato della cassa del mezzogiorno non come un tornare al passato ma come un esempio di collaborazione virtuosa di interazione virtuosa tra pubblico e privato e quindi anche questo se possibile insieme alle argomentazioni comunque quello che voi vorrete affrontare nel vostro intervento sarebbe interessante tenerlo tenerlo in considerazione con passione è stato fatto questo intervento anche tecnicamente ricordo una battuta che nel suo intervento ha fatto ieri l'onorevole Toccafondi quando ha parlato per lui della politica parlando della politica ha detto la passione è il motore della politica ma il desiderio è la benzina anche qui secondo me si potrebbe dire che la passione sicuramente parlare con passione è il motore anche di un progetto economico di un progetto di rilancio per il sud si deve partire dal reale desiderio di ciascuno che non è quello della volontà dell'annichilimento dell'altro ma della collaborazione ringrazio ancora tutti voi per essere presenti e do la parola all'onorevole Maratin che se non hanno sbagliato la scheda capogruppo della commissione bilancio del suo partito del PD alla Camera e che quindi da uomo del sud come l'onorevole Speranza che infatti parlerà dopo avranno il compito di introdurre come dire la discussione essendo anche di quelle zone insomma quindi grazie della partecipazione a lei la parola Sì grazie grazie dell'invito graditissimo invito per discutere una questione fondamentale devo dire è difficile dire qualcosa di non detto sul sud le ragioni del suo mancato sviluppo io ricordo uno dei miei primi contatti con la politica da bambino sentivo spesso ripetere l'espressione il sud deve diventare la piattaforma del Mediterraneo e ricordo di chiedere a mio padre da piccolo ma piattaforme pensavo fossero quelle solo dei tuffi e chiedevo ma cosa vuol dire esattamente ecco non sono per fortuna troppo vecchio ma la mia età ce l'ho sono passati un po' di decenni e ancora siamo in tutti i programmi delle forze politiche in tutti i discorsi in tutti gli approfondimenti al concetto di sud piattaforma del Mediterraneo senza che in realtà policies concrete per attuare questa giusta preposizione siano mai state attuate come raccontare la storia del sud che non è una storia di fallimento completo è una storia come veniva efficacemente detto dal presidente di isolati successi ma di generale fallimento e questo rende ancora più complicata la domanda su come se ne esce perché il fatto che vi siano delle eccellenze isolate ma che non siano riuscite a tradursi in un'eccellenza di sistema ci fa chiedere perché e come fare e cosa fare ce lo fa chiedere a decenni allora io mi concentrerò su una cosa e su quello che dirò non c'entrano soldi pubblici avete io opinioni piuttosto eterodosse sono convinto che quasi nessuno dei problemi dell'Italia oggi si risolva buttandoci sopra un sacco di soldi pubblici consiglio la lettura per chi non l'ha fatto di uno splendido libro di ormai qualche anno fa di credo si chiami Antonio Menna un cronista del mattino si chiama se Steve Jobs fosse nato a Napoli è una storia immaginaria di due ragazzi di Napoli che hanno l'idea dell'iPhone dell'iPad o quello che era a Napoli ed è la storia di come questo progetto fallisce per una serie di impedimenti nessuno di quei impedimenti ha a che fare con la troppa poca spesa pubblica quindi io faccio parte di coloro che credono e veniva efficacemente detto non credo che la percentuale sia 5% Presidente però parte dei fondi strutturali europei e non solo non vengono spesi nel sud quindi chi vi parla è convinto in maniera molto eterodossa che quasi nessuno dei problemi del nostro futuro abbia a che fare col fatto che si spende poco ha a che fare col fatto che si spende male ma soprattutto ha a che fare e questo è il fallimento se questa fosse una Repubblica in grado di guardarsi allo specchio userebbe questo tempo per capire come negli ultimi 25 anni in quella che viene definita seconda Repubblica in un paese che cambia Repubblica senza cambiare Costituzioni ma è un fallimento di questi ultimi 25 anni è il fallimento della riforma della governance pubblica perché noi possiamo avere anche le idee migliori sulle policies da fare che implichino o non implichino spesa pubblica ma alla fine camminano sulle gambe di due cose della governance pubblica cioè delle istituzioni che governano i territori e della classe dirigente che riempie quelle istituzioni e se noi fossimo onesti intellettualmente in questa Repubblica ci guarderemo indietro agli ultimi 25 anni e troveremo almeno due grandi fallimenti penso siano molto di più io ne dicevo ieri sera uno in tv con un esponente dei 5 Stelle che diceva allora state confessando che avete governato male il discorso è un pochino più elevato quello che dicevo era il fallimento nell'interiorizzare il passaggio culturale da stato gestore a stato regolatore l'abbiamo sempre detto è un altro dei slogan degli ultimi 30 anni non abbiamo mai veramente interiorizzato quel passaggio è da lì che deriva il dibattito anche tragico di queste ore su quello che è accaduto a Genova lo Stato quando è passato da gestore al regolatore non ha mai metabolizzato quel passaggio e quello che significava in termini anche di competenze per svolgere quella funzione pubblica ma quello su cui mi concentro è un altro fallimento è quello di non aver creato un sistema di governance pubblica se volete di federalismo efficiente sono 25 anni che la parola federalismo ha debuttato nel dibattito pubblico di questa Repubblica da allora non c'è stato un esponente di destra di sinistra di centro di mezzo di lato che non abbia detto abbia promesso che non abbia si sia riempito la bocca e riempito le sale di applausi col termine federale noi possiamo e dobbiamo dire che dopo 25 anni quel progetto è stato un fallimento in questo paese non si è creato un vero sistema federale si è creato un sistema federale confuso sghembo i cui errori continuano e ripeto sono di destra e di sinistra questi tipi di imperfezioni la legge costituzionale di riforma del titolo quinto è del 2001 sotto un governo di centro-sinistra la legge delega che recepisce quella riforma del 2009 sotto un governo di centro-destra i decreti attuativi di quella riforma sono stati fatti da entrambi dal 2010 in poi perché abbiamo costruito un sistema io lo chiamo di governance pubblica non federale nel senso di capire come i livelli di governo di questa Repubblica stanno insieme e cosa fanno perché abbiamo sbagliato perché non l'abbiamo fatto in maniera giusta perché abbiamo fallito nel capire e nell'attuare l'idea che un vero federalismo ripeto per federalismo intendo come stanno insieme i livelli di governo di questa Repubblica è tale solo se è basato su due pilastri autonomia e responsabilità in questo paese gli autonomisti non vogliono essere responsabili e i responsabili non hanno nessuna voglia di essere autonomisti abbiamo interpretato male tutto questo abbiamo pensato fra l'altro che federalismo significasse dire ti do quante più materie possibili a livello decentrato non è questo il federalismo perché guardate che anche il concetto di sussidiarietà cambia non solo nel tempo ma cambia a seconda delle dimensioni del mercato perché funzionava la cassa per il mezzogiorno negli anni 60 perché eravamo in un'epoca anche economica completamente diversa questo era un paese che usciva dalla seconda guerra mondiale come paese essenzialmente agricolo che doveva ancora percorrere gli stadi di sviluppo che stanno percorrendo velocità molto più avanzata altri paesi adesso a un certo punto in questo paese dopo aver fatto il miracolo economico si è rotto qualcosa a fine anni 60 e allora abbiamo coperto quello che si era rotto negli anni 70 con la svalutazione con l'inflazione negli anni 80 con il debito pubblico negli anni 90 quando non potevamo usare nessuna di queste tre sono cominciati i problemi e da allora la produttività ha smesso di crescere ma la sussidiarietà stavo dicendo cioè cosa un livello di governo decentrato può fare meglio di quello superiore dipende dalla dimensione del mercato alcune politiche come quelle ambientali sono sempre state fatte meglio a livello centrale per ovvie ragioni per l'esternalità che producevano ma altre politiche con l'allargarsi della dimensione del mercato e questo è stato lo shock che in questo paese non abbiamo mai digerito a metà anni 90 quando il mercato diventa globale non abbiamo mai capito che erano i nostri comportamenti a dover cambiare prima ancora del nostro modo di fare impresa di fare banca di fare pubblica amministrazione di fare scuola di fare università di fare politica non abbiamo mai capito pensavamo fosse una nottata che doveva passare e ancora adesso la maggior parte delle offerte politiche in giro per il mondo e in giro per il paese ci dicono che quel cambiamento non è mai avvenuto in realtà non è vero che ti devi adeguare a un mondo globale oppure se è vero ti proteggo io ti proteggo nel senso che ti isolo da quella necessità di cambiare nessuno dice che quel cambiamento non solo è ineludibile ma è migliorativo se sappiamo costruirlo governarlo e accompagnare i soggetti più deboli a quel cambiamento allora le politiche del lavoro le politiche industriali poteva essere sensato nel mondo di allora farle gestire a livello più vicino possibile al cittadino adesso no perché le interconnessioni della nostra economia il modo in cui funzionano i processi produttivi fanno sì che alcune materie sia più efficiente falle a livello centrale che a livello locale ma questo ci rende meno federali no perché un sistema federale efficiente di riforma della governance pubblica non è quello che dice più roba ti do alla regione meglio è e fatemelo dire anche in questa regione che è la mia regione in realtà sono nato nel sud ma ho vissuto quasi tutta la vita a Ferrara non sono fra quegli entusiasti di quello che sta avvenendo con l'articolo 116 della Costituzione c'è il regionalismo differenziato non sono fra quelli entusiasti perché non credo che un nuovo federalismo significhi dire che su 15 regioni a statuto ordinario 13 come adesso hanno fatto domanda ognuno per conto suo per gestirsi un pezzo di roba ognuno come vuole non è quello il livello di federalismo ordinato che personalmente io sogno allora qual è quello che sogno un federalismo in cui vadano di pari passo autonomia e responsabilità in cui io ti delego poche materie perché ripeto il concetto di sussidiarietà è cambiato nel corso del tempo e con l'allargarsi la dimensione del mercato ma su quelle che ti delego sei responsabile unicamente tu non è un caso se nella lingua italiana la parola accountability non è traducibile ce ne vogliono due o tre di parole cioè io devo rendere conto a qualcuno di quello che faccio questo è un sistema federale io ti delego le materie che è giusto delegarti ti fornisco gli strumenti fiscali su cui tu hai piena sovranità è così adesso con la fine della fiscalità comunale di cui ogni tassa c'è una parte rigettido che va allo Stato una parte che va qui un sacco di regole un sacco di vincoli io sogno un sistema in cui un sindaco un presidente di regione abbia uno o due strumenti fiscali e ci può fare quello che vuole abbia quattro o cinque competenze ma che siano esclusive su quel pezzo in modo che sia lui il responsabile di quello che fa sia lui il responsabile di aver evitato che Antonio Menna faccia un altro libro fra qualche anno su cosa sarebbe successo se il prossimo Steve Jobs fosse nato a Catania o a Palermo e in cui il cittadino può identificare benissimo i livelli di governo e chi e chi fa cosa non siamo in questa situazione perché quando vi parlo da ex presidente della commissione sui fabbisogni standard li abbiamo portati al 45% da zero i fabbisogni standard ma su questo la risposta che avevamo da parte di comuni del sud del nord non era è uno strumento giusto per ridistribuire la risposta era uno strumento giusto se alla fine tiro una riga e ho più soldi di prima allora lo vedete che abbiamo fallito nel coniugare autonomia con responsabilità quando un comune va in dissesto non ne sopporta le conseguenze politiche dice che è colpa dei mercati finanziari o della BCE è il caso di un grosso comune del sud che anche in questi giorni anche col decreto dignità ha avuto una generosa mano ma siccome non vuole accettare l'idea che se tu sfasci le finanze pubbliche speriamo che parliamo soltanto di comune e non fra qualche mese di qualcos'altro la colpa è tua non è della BCE non è dei mercati finanziari non è di qualche sadico che ti sta facendo fallire allora chiudo perché l'ho fatta troppo lunga quindi ripeto ogni livello di governo deve avere le sue competenze specifiche quelle che nel mondo post globalizzazione è giusto equo ed efficiente che abbia non quante più possibili riconoscerete nelle mie parole un pezzo della razio che ci ha guidato per il referendum costituzionale del dicembre 2016 perché non è più tempo di competenze concorrenti un po' lo faccio io un po' lo fai tu così vuol dire che se va male ti prendi la colpa tu se va bene ti prendo in merito io non è più il tempo le sfide che abbiamo davanti sono troppo forti per avere elementi di ambiguità del genere allora ogni livello di governo ha le sue competenze i suoi strumenti fiscali esclusivi e i fondi perequativi perché è evidente che le disparità del nostro territorio devono far sì che ognuno parta dalle stesse condizioni di partenza ma anche su questo l'esperienza di questi anni che pur è stata fantastica dal punto di vista di dove partivamo non ci ha creato nel paese quell'humus culturale di prontezza per una riforma del genere questo e chiudo è un paese in cui gli autonomisti sono pronti anche a essere responsabili e i responsabili sono pronti anche a essere autonomisti se non lo fosse e io spero davvero che lo sia allora il problema è un altro perché come vi dicevo prima non servono sempre soldi in più serve la riforma della governance pubblica delle istituzioni pubbliche efficienti ed adeguate al tempo che viviamo e uomini e donne che le possano riempire cioè classe dirigente allora il problema è che in questa Repubblica forse un altro dei fallimenti della cosiddetta seconda Repubblica è che abbiamo perso i processi di formazione selezione e ricambio della classe dirigente e quando siamo stati tentati dal ricambio l'abbiamo fatto senza aver formato e selezionato la classe dirigente forse parte del problema sta qui ma questa come dire è un'altra storia è un altro dibattito grazie grazie nomevole Maratin sicuramente ha introdotto con riferimento all'oggetto dell'incontro di oggi cioè il sud e quale futuro per il sud due temi importanti e centrali appunto come diceva lui quello della governance pubblica delle istituzioni ricordo che uno dei punti proprio del manifesto dell'intergruppo è quello legato alla ripresa della discussione su istituzioni e territori quindi ha anche anticipato sicuramente uno degli incontri che in altri contesti sono convinto che l'intero gruppo promuoverà su questi temi accenno interessante anche alla dimensione verticale della sussidiarietà e la sua dinamicità intendo proprio il principio di sussidiarietà esiste anche la dimensione orizzontale che è quella diciamo che c'è più non più che ci accade altrettanto ma anche qua meriterebbe un'altra discussione io condivido molto le osservazioni che lei ha fatto do la parola adesso a Roberto Speranza donorevole Speranza che è coordinatore di articolo 1 MDP che si costituirà in l'EU a fine anno membro appunto dell'intergruppo e in tale veste la invito a fare la sua relazione la ringrazio per aver accettato l'invito mi permette anche di ricordare un altro importante promotore dell'intergruppo che non è presente ma che è del suo gruppo che è l'onorevole Bersani che insieme appunto all'onorevole Luppi ormai nel lontano 2003 diedero vita all'intergruppo per la sussidiarietà bene grazie grazie a voi per questo invito credo che l'intergruppo sia molto utile chiaramente a partire dalle differenze che ci sono di orientamento forze politiche di sinistra di destra di centro e che questo dialogo nelle differenze non possa che farci bene e il tema di oggi credo che sia uno dei temi centrali che riguarda il futuro del paese e su cui credo che ancora il paese la comunità nazionale l'opinione pubblica non è riuscita a fare quel salto di qualità di cui ci sarebbe bisogno io proverò a dire molto rapidamente alcune cose punto primo io credo che dovremmo lavorare insieme anche nelle differenze per affermare un primo punto decisivo e cioè che non c'è Nord senza Sud e non c'è Sud senza Nord guardate può sembrare banale o scontato ma in realtà non è così perché sia a Nord che a Sud si tende ad avere un pezzo dell'opinione pubblica che costruisce una dinamica e una dimensione che va in termini opposti rispetto a quello che ha appena detto lo abbiamo visto in molti pezzi del dibattito pubblico italiano a Nord per esempio l'idea che il Nord potrebbe essere il posto più ricco e più felice del mondo e che invece non lo è perché c'è un Sud palla al piede che in qualche modo non gli consente di prendere il volo e di essere l'economia e il pezzo d'Italia più prospero addirittura ad Europa e al Sud si commette spesso un errore speculare e cioè immaginare che anche il Sud pieno di risorse con quest'ambiente straordinario con queste risorse naturali e non solo anche culturali potrebbe tranquillamente essere un posto di straordinario rilievo ma purtroppo non ci riesce perché c'è un Nord predone che sta lì a togliergli risorse io penso che questi due pezzi di discussione pubblica che hanno avuto un peso nel nostro paese siano specularmente i due nemici che noi dobbiamo provare ad abbattere in realtà questo gruppo di lavoro ha un senso se parte dall'affermazione da cui sono partito io e cioè il paese ce la può fare solo dentro una sinergia e dentro una collaborazione proficua e uno scambio proficuo tra Nord e Sud che si tengono insieme si tengono per mano e non mai l'uno contro l'altro la fotografia è stata fatta la fotografia dei numeri l'abbiamo vista anche qui stamattina è una fotografia drammatica io voglio usare un termine che può sembrare forse eccessivo un po' forte ma che ritengo abbia un fondo di verità e dentro quei numeri si può usare probabilmente la parola scissione è una scissione silenziosa quando i numeri degli asili nido sono quelli quando i livelli delle infrastrutture sono quelle quando la differenza della qualità della cittadinanza è così forte io non riesco ad immaginare un termine diverso da quello di una scissione silenziosa in cui resta sicuramente il nostro tricolore il nostro inno nazionale ma rischiano di diventare gusci vuoti dentro cui alla fine non c'è nulla se sono due paesi così diversi io penso che questo sia un punto su cui riflettere su cui le classi politiche nel loro complesso dovrebbero provare a ragionare a immaginare soluzioni possibili anche qui non c'è tempo stamattina in pochi minuti di individuare soluzioni salvifiche che risolvano tutti i problemi io però voglio provare a dire alcune cose condividendo anche quello che è stato detto finora in questa mattinata io penso che il sud abbia bisogno al tempo stesso e questa può apparire una contraddizione di più stato e più mercato ma come più stato e più mercato può sembrare appunto una contraddizione se c'è più stato c'è meno mercato se c'è più mercato c'è meno stato invece io credo che nel sud ci sia bisogno di più stato e di più mercato al tempo stesso quando dico più stato che cosa intendo intendo per esempio più lotta contro la criminalità organizzata contro le mafie sempre e comunque perché con le mafie il sud non crescerà mai ed è un grande tema che ci riguarda su cui credo dovremo abbassare le bandierine della nostra polemica politica quotidiana e provare a capire come insieme si dà una risposta a questo grande tema e poi più stato significa più infrastrutture infrastrutture migliori ancora per andare da Napoli a Bari è una cosa difficilissima io sono lucano per venire qui ci ho messo 6-7 ore per arrivare ancora con mille difficoltà e mille problemi e poi più stato significa per me più investimenti nella formazione nella scuola nell'università pubblica e poi più investimenti nella sanità pubblica in un tempo in cui la sanità rischia di non essere più universale su questo mi piacerebbe parlare di più ma quando lo Stato non ti garantisce una sanità pubblica di qualità e quando centinaia e centinaia direi migliaia e migliaia di famiglie meridionali sono costrette ad andare negli ospedali del nord per curare i propri cari ebbene siamo di fronte ad un dramma vero di questo nostro paese e allora più Stato per me significa questo lotta alla criminalità significa soldi per infrastrutture significa scuola e università pubblica significa sanità significa lotta contro le diseguaglianze e poi dico più mercato perché più mercato perché la storia del mezzogiorno è una storia in cui lo Stato c'è stato scusate il gioco di parole ma c'è stato spesso in modo sbagliato io penso dico a Luigi che ci sono state tre grandi fasi di intervento pubblico nell'economia meridionale la prima è quella della cassa del mezzogiorno negli anni 50 sostanzialmente la seconda quella degli anni 70 con la nascita delle regioni e la terza quella degli anni 90 quando sono arrivati i soldi europei tre grandi momenti in cui il rubinetto dei soldi pubblici è arrivato in modo molto proficuo molto grosso molto consistente nel mezzogiorno il punto è però come sono stati spesi questi soldi sono stati spesi troppo spesso sviluppando uno scambio spesa pubblica consenso chi gestiva le cose chi governava aveva in mano questi rubinetti di danaro e li utilizzava più per costruire consenso che per costruire sviluppo è chiaro che questo modello qui che comunque ha portato il nostro paese un po' alla volta a crescere lo stesso mezzogiorno a fare qualche passo avanti oggi non può più reggere ed è questo il cambiamento culturale più grande che noi dobbiamo fare lo dico ancora una volta da meridionale un cambiamento culturale fortissimo allora quando dico più mercato intendo questo meno intermediazione politica più premalità dirette più meccanismi diretti che non consentano appunto questo perpetuarsi di uno scambio spesa pubblica consenso che non porta da nessuna parte ultimi due flash velocissimi il sud di cos'altro ha bisogno anche qui io credo che abbia bisogno di cambiare non solo di un aiuto di un sostegno di investimenti di infrastrutture le cose che dicevo prima ma abbia bisogno anche di cambiare la modalità di porsi di rappresentarsi di raccontarsi e anche qui che cosa è avvenuto negli anni è avvenuto che troppo spesso si è immaginato che dovesse arrivare una persona una personalità sui territori o a livello nazionale con una bacchetta magica con funzioni salvifiche è un po' quest'idea tutta meridionale di un salvatore della patria che arriva e ti risolve i problemi invece il sud che io sogno permettetemi di dirlo è un sud che ricominci a coltivare virtù anti-eroiche permettetemi anche qui è un termine un po' forse diverso rispetto a quelli che spesso si ascoltano virtù anti-eroiche che significa? significa che non si ha bisogno di sciamani non servono salvatori della patria ma servono persone per bene comune che hanno a cuore la propria terra e che ogni giorno fanno il proprio lavoro al servizio della comunità di questo ha bisogno il sud di coltivare virtù anti-eroiche che è esattamente il contrario della proiezione pubblica che spesso la politica dà in questo paese e allora permettetemi di chiudere in un istante in questo quadro drammatico provando a segnalare anche l'idea di qualche buon esempio che ce la fa perché è vero che nel mezzogiorno ci sono tante cose che non vanno tanti drammi in queste ore un dibattito a tratti surreale su una delle più grandi industrie del paese quale è l'ILVA che ci mette di fronte a un bivio incredibile inaccettabile diritto al lavoro da una parte diritto alla salute e diritto all'ambiente dall'altra ma che paese è un paese che ho stretto a scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto all'ambiente e alla salute ma dentro questo contesto io penso che esiste anche la possibilità di cambiare e di farcela e voglio concludere mi permetterete anche con un tratto di piccolo campanilismo in questa sede ricordando l'esempio di una città del mezzogiorno che è una città che mi sta particolarmente a cuore perché è una città della mia regione che è la città di Matera Matera negli anni 50 veniva definita la vergogna d'Italia perché si viveva nelle grotte nei sassi e spesso non ci vivevano solo persone non dobbiamo cancellare il passato da cui tanti di noi vengono dobbiamo saperlo conoscere in quelle grotte c'erano non solo famiglie ma spesso c'erano le galline gli animali domestici con cui si provava a tirare avanti all'uscita dalla guerra mondiale un paese in ginocchio logorato in grande difficoltà ebbene quella città oggi è la capitale europea della cultura si è realzata ce l'ha fatta e l'idea di come ce la si può fare guardando negli occhi i problemi provando ad affrontarli e immaginando insieme soluzioni possibili e io credo che il lavoro di questo intergruppo abbia senso esattamente se va in questa direzione grazie grazie all'onorevole speranza per l'intervento raccolgo è molto interessante mi colpisce molto questo passaggio che lei ha fatto su coltivare le virtù antieroiche perché lo sento molto come dire molto interessante e provocante perché se lo capisco bene nell'accezione con cui lo capisco io è molto vicino a quello che che sentiamo anche noi come compito nella società di oggi e tra l'altro su Matera c'è un bellissimo libro del senatore Raniere Umberto Raniere che è napolitano la luna che parla di quello che lei ha descritto in modo mirabile secondo me darei la parola adesso all'onorevole Barbara Saltamartini che è presidente della commissione attività produttive commercio turismo della camera dei deputati che ormai non è una neofita perché è già partecipato diverse volte al nostro meeting tra l'altro ha già avuto modo di intervenire anche un dibattito sull'intergruppo per cui la riaccolgo le ridò il benvenuto le lascio la parola per il suo intervento grazie grazie veramente di cuore ringrazio l'intergruppo per la sussidiarietà e devo spezzare una lancia a favore di un amico che è qui che seppure in un altro partito oggi però per fortuna l'amicizia è salva e che da quando non ha più impegni tanto importanti finalmente devo dire ha ridato vita e ha rimesso in moto l'intergruppo per la sussidiarietà e credo che questa sia una cosa molto bella perché ci dà l'occasione veramente di poterci confrontare tra colleghi tra gruppi politici parlamentari diversi ma sempre con un obiettivo davanti che è quello poi di tornare a quella politica quella più maiuscola che si occupa di lavorare si rimbocca le maniche per lavorare per il bene comune per cercare di dare risposte a quelli che sono i mali del nostro paese per cercare di riprendere un po' quel filo anche di comunità nazionale di intenti e di valori che partendo dalle differenze però sa trovare la forza di unirsi quando ce n'è bisogno io credo che questo sia uno di quei momenti guardate oggi purtroppo e su tutti i giornali c'è un'altra immane tragedia altri morti in Calabria veniamo da giorni particolari dove effettivamente il peso e il dolore che ognuno di noi ha provato ha vissuto rispetto alle tragedie che ci sono state ci avrebbe dovuto far unire ci avrebbe dovuto vedere schierati tutta da una sola parte purtroppo invece non è accaduto e allora se invece grazie anche al lavoro dell'intergruppo si può recuperare quella comunanza di intenti e soprattutto quella volontà perché si tratta di volontà di voler lavorare per il bene comune del paese io credo che sicuramente avremmo fatto una cosa buona sicuramente avremmo fatto una cosa giusta e io parto da questo perché perché quando si parla di sud sicuramente indubbiamente occorre avere una visione di ampio respiro una visione molto allargata occorrerebbe avere anche una visione di medio-lungo periodo perché ahimè per risolvere alcuni mali non basta certo la bacchetta magica non basta certo un uomo solo al comando non basta certo l'impegno in una singola legge di bilancio anzi tutt'altro abbiamo visto esperimenti negli anni passati dove pensavamo di poter dare risposta al sud invece purtroppo cadevamo nella trappola di quei soldi dati un po' a pioggia di quei contributi dati un po' a pioggia che come è stato detto spesso e volentieri sono diventati la prima occasione con la quale alimentare i miei fenomeni di corruzione e di criminalità e di malavita allora rispetto a questo occorre ragionare a medio e lungo termine ma occorre partire da quello che già c'è io sono una di quelle che non pensa che quello che è stato fatto dai governi passati sia del tutto errato anzi sono convinta però che è stata del tutto errata l'immagine del sud che abbiamo dato negli ultimi anni cioè abbiamo reso il sud di fatto conosciuto non per le potenzialità inespresse sicuramente inespresse che ha grazie alla ricchezza dei propri territori che lo compongono grazie a un patrimonio turistico culturale ambientale enorme ma abbiamo reso il sud famoso per essere diventato il grande porto di approdo di un fenomeno migratorio enorme un esodo che ha fatto sì che i porti del sud quelle ricchezze quelle eccellenze che noi abbiamo al sud Italia anche da un punto di vista infrastrutturale fossero ridotti poi ad essere semplicemente luoghi di attracco e nulla di più allora io credo che rispetto a questo occorra un po' invertire la tendenza credo che sia giusto e doveroso invece rimettere al centro quelle che sono le poche infrastrutture che abbiamo al sud purtroppo poche perché se è vero che Matera è diventata la città della cultura e credo che sia una cosa importantissima per quel territorio ma in generale per tutta Italia è pur vero che ancora oggi per raggiungere Matera ci sono grandissime difficoltà e diciamo permettetemi un termine un po' romano cozza un po' il fatto di avere la capitale della cultura e di non poterla raggiungere così tanto facilmente come magari raggiungiamo tantissime altre città in giro per l'Italia però io mi centro sui porti perché credo che oggi per far ripartire il sud e per dare un progetto al sud occorra provare a fare quello che è stato fatto tanti e tanti anni fa secoli fa quando con i porti del nord noi aprimmo alle vie commerciali con le città marinare quando noi riuscimmo a far sì che l'Italia diventasse il centro del commercio internazionale tra più tra più mondi ecco noi al sud abbiamo dei porti fondamentali abbiamo Gioia Tauro Taranto Crotone e tanti altri ma se non investiamo in quei porti se noi facciamo in modo che quella parte di investimenti sulle infrastrutture sono ben contenta che il governo abbia annunciato un grande piano per le infrastrutture perché finalmente potremmo purtroppo partendo da una tragedia in mani come quella di Genova però provare effettivamente ad investire su qualcosa di importante se noi oggi fossimo in grado di rendere quei porti del sud capaci di intercettare quelle grandi compagnie di commercio navale che hanno bisogno di infrastrutture tali per poter essere effettivamente intanto risparmiare tempi e costi perché è stato calcolato che grazie al raddoppio del canale di Suez oggi potrebbero effettivamente passando per il centro del Mediterraneo queste grandi compagnie poter diminuire del circa il 5% i propri costi e soprattutto del 15% i tempi di percorrenza nel viaggio che le merci fanno se noi effettivamente fossimo in grado di valorizzare quelle realtà portuali con tutte le infrastrutture da far crescere intorno a quelle realtà se noi fossimo in grado di investire nelle ZES in quei termini e non appunto come stanziamenti fine a se stessi beh io credo che noi avremmo fatto un tanto un primo passo un primo passo per risolvere uno dei problemi e dei mali più grandi del sud che è quello dell'occupazione guardate in Italia stiamo assistendo ad un fenomeno drammatico un'emergenza drammatica che però è molto silenziosa forse perché non fa tanto clamore e che è la terza ondata emigratoria più grande che abbiamo vissuto dopo quella delle famiglie dei primi del novecento dopo quella dei nostri padri oggi c'è quella dei nostri figli un milione e 883 mila persone che sono andate via dall'Italia e di queste più del 60% è andato via dal sud di questo 60% uno su due è un giovane tra i 15 e tra i 16 e i 30 anni questo vuol dire un depauperamento come diceva il professor Vittadini all'inizio del suo intervento un depauperamento non soltanto da un punto di vista economico ma soprattutto sociale soprattutto culturale quel depauperamento che fa sì che l'Italia oggi anche stante la grandissima crisi demografica che abbiamo di fronte non abbia futuro ma per far rimanere i nostri giovani nelle proprie terre per far sì che nessuno abbia la necessità non la voglia la necessità di andare all'estero per cercare fortuna noi dobbiamo dare occupazione per dare occupazione serve creare lavoro il lavoro non si crea soltanto con permettetemi con le leggi il lavoro si crea cercandosi di far ripartire un territorio valorizzando le specificità e le differenze di quel territorio allora sì quelle riforme costituzionali su cui io probabilmente a differenza dei marati sono un po' più favorevole che parlano di regionalismo differenziato perché lì occorre investire secondo me per valorizzare i territori ma sì soprattutto alla formazione e all'educazione guardate non c'è sviluppo economico se non c'è qualità per i nostri dei nostri lavoratori il capitale umano è la risorsa del sud su cui occorre investire ed è dalla scuola e dall'università che occorre ripartire quindi anche da questo punto di vista il sud ha eccellenze sicuramente abbiamo dei poli universitari importantissimi penso a quello di Bari per esempio che partecipa tra l'altro ai piani di industria 4.0 anche con con grandi potenzialità ma purtroppo sono casi isolati occorre investire l'investimento in formazione e ricerca non è mai un investimento vano ma allo stesso tempo occorre che la scuola e l'università tornino ad essere sinceri con le famiglie e con i ragazzi occorre che parta da chi ha il compito di educare e di formare quella responsabilità di formare famiglie giovani su quei lavori che oggi servono spingendoli ad approfondire quelle che sono le materie che più di altre oggi possono effettivamente creare posti di lavoro che creano posti di lavoro ma soprattutto che creano lavori dignitosi noi da lì dobbiamo ripartire e quindi abbiamo il tema delle economie abbiamo il tema delle infrastrutture abbiamo il tema dell'educazione abbiamo il tema del capitale a mano e abbiamo anche l'altro grande tema che diceva qualcuno prima di me che è la lotta alla mafia e alla criminalità non c'è sviluppo del sud se non c'è un serio contrasto e una seria battaglia per la legalità e per la sicurezza legalità e sicurezza che sono sociali legalità e sicurezza che sono anche battaglie di natura economica allora in questo senso io credo temo di aver finito il tempo e mi avvio alla conclusione temo che occorra un lavoro un progetto di lungo respiro di ampio respiro io credo che anche come maggioranza oggi politica nel paese abbiamo il compito di fare qualcosa in più credo che se questo è veramente il governo del cambiamento lo dimostrerà se sarà capace di far crescere il sud non più come palla al piede del nord ma se saprà mettere insieme nord e sud in una prospettiva di crescita diversa ragionando con una prospettiva diversa sul sud il sud non è il sud Italia il sud è il centro del Mediterraneo è il centro di un bacino più ampio dell'Italia è il centro di un bacino molto più prospero di quanto noi stessi pensiamo ma lo può essere solo e soltanto se saremo in grado di mettere in campo quelle iniziative politiche e economiche dove lo Stato torni a fare lo Stato perché siamo stanchi di uno Stato che magari con l'alibi di non di lasciar crescere in maniera autonoma esperienze territoriali da sole rinuncia a fare la sua azione fondamentale che è quella del controllo innanzitutto ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di un tessuto economico sociale quale quello delle imprese che effettivamente torni ad investire magari grazie a quelle politiche economiche fiscali di un governo che può mettere in campo oggi nuove prospettive non so se i migliori di quelle del passato ma sicuramente quelle che gli italiani stessi ci hanno chiesto di mettere in campo per dare vita ad un cambiamento penso che occorra ripartire da lì grazie grazie presidente è bello comunque sentire parole da un rappresentante istituzionale maggioranza di governo come sincerità educazione invece in un in un clima dove come dire ci sono delle ben altri aggettivi vengono utilizzati siamo in orario quindi per non attardarmi io e far far concludere gli interventi dopo l'orario previsto do subito la parola all'onorevole Fabio Rampelli Fratelli d'Italia che è vicepresidente della Camera dei Deputati che rappresenta quindi l'istituzione del Parlamento che è stato anche tirato in causa da questo palco non lui personalmente ma diciamo l'istituzione anche se secondo me le interpretazioni giornalistiche sono state un po' riduttive un po' sintetiche perché chi era presente all'incontro ha sentito le parole di Giorgetti e non erano proprio quelle che sono state riportate ma comunque siamo molto lieti di poter dare la parola al rappresentante dell'istituzione Parlamento e quindi le do subito la possibilità di intervenire intanto anch'io vorrei ringraziare intanto ringraziare tutti voi ringraziare questa manifestazione straordinaria che di anno in anno cresce e resta un punto di riferimento assoluto non solo una vetrina come si dice in gerga una vetrina si osserva dall'esterno ma un miscuglio un quacerbo di idee che si intersegano da cui possono nascere se saremo bravi nasceranno delle idee innovative per servire meglio il nostro popolo ringrazio anch'io Maurizio Lupi come animatore da sempre dell'intergruppo parlamentare oltre che come amico penso che tutte le premesse che sono state narrate in queste ore si stiano materializzando e ci sono molti argomenti su cui effettivamente al di là delle posizioni che ciascuno rappresenta dei partiti di riferimento possono diventare il laboratorio per provare a dare dei contributi in maniera trasversale e concreta per migliorare la qualità della vita degli italiani non voglio sottrarmi alla battuta che è stata fatta poco fa dal moderatore come vicepresidente della Camera anche se in questo caso partecipo volentieri a questo dibattito anche come parte politica che rappresento però ho anche un ruolo istituzionale sono contento di ricoprirlo e penso che per una persona che viene dal popolo dalla strada diciamo così per utilizzare un po' di retorica non ci sia niente di più significativo pregnante e soddisfacente che rappresentare il tempio della sovranità popolare non c'è niente di più bello in democrazia del Parlamento che è il luogo sovrano scelto per eccellenza con stagioni alterne alterne fortune dai cittadini con metodo democratico paradossalmente per fare una battuta e poi vengo all'oggetto del contendere quindi alla materia su cui siamo impegnati a confrontarci per paradosso ci potrebbe essere un popolo governato da un Parlamento ma non ci può essere un un governo diciamo così senza un Parlamento tant'è che il Parlamento dà la fiducia al Governo e quindi anche il sottosegretario Giorgetti l'amico Giorgetti si trova a svolgere un ruolo fondamentale esattamente perché questa fiducia gli è stata data dal Parlamento italiano ma questo non significa che Giorgetti non abbia le sue ragioni che io condivido però può essere uno stimolo in più per cercare di rendere più efficace il lavoro del Parlamento basterebbe forse senza arrampicarsi sugli specchi e immaginare rivoluzioni copernicane nell'assetto nell'architettura dello Stato e della Costituzione basterebbe fare qualche piccola riforma del regolamento parlamentare per snellire il nostro lavoro e quindi rendere più efficace il lavoro del Parlamento intero e su questo penso che ci si debba tutti misurare parliamo del Sud non so se dirò cose scontate o particolarmente originali non credo che sia importante probabilmente come già è stato detto si ripeteranno concetti che abbiamo ascoltato per tanti anni per troppi decenni però penso che sia indispensabile partire l'abbiamo fatto ascoltando nella relazione introduttiva di Vittadini già un panorama abbastanza inquietante però alcuni numeri vanno ribaditi perché altrimenti non si capisce bene l'oggetto del contendere dal 2012 al 2016 quindi in soli quattro anni noi abbiamo avuto un trasferimento di persone quella che viene definita capitale umano in politichese di 783.000 persone in quattro anni dal Sud al Nord se allarghiamo lo spettro del nostro ragionamento agli ultimi 16 anni questo numero si ingigantisce a dismisura e prende le caratteristiche di un vero e proprio esodo biblico parliamo di 2 milioni di persone queste persone si dividono in varie categorie alcune sono inquietanti perché incontrano delle similitudini per esempio il 50% di questi numeri è rappresentato da giovani tra i 15 e i 34 anni d'età esattamente quei giovani e non solo giovani comunque quelle popolazioni come fascia una grafica di riferimento che si trasferiscono dall'Africa subsahariana prima attraverso la penosa e dolorosa attraversata del Sahara poi attraverso consegnandosi agli scafisti l'attraversamento del tratto di mare che separa la Libia dalla Sicilia e dalla Calabria nel tentativo nel desiderio nell'aspirazione ad atterrare in Italia valutata come porta d'accesso all'Occidente opulento abbiamo un quinto di laureati e il 20% circa di questi numeri ciclopici va direttamente all'estero facendo un rapido calcolo si tratta di 140.000 persone negli ultimi sei anni e di 400.000 persone che vanno fuori dai confini nazionali negli ultimi 16 anni sono numeri che fanno accapponare la pelle ma devono essere accompagnati dalle valutazioni di carattere politico perché non è possibile non farlo quando citiamo i laureati e i diplomati automaticamente prendiamo le distanze da altrettanti esodi che noi popolo di emigranti abbiamo conosciuto nel corso della nostra storia dove però questi trasferimenti vennero fatti perché serviva diciamo così manovalanza ad altri paesi ad altre economie oggi la natura della nostra emigrazione è una natura completamente diversa appunto diplomati e laureati vanno fuori dai nostri confini e abbiamo comunque un danno collaterale che è misurabile anche economicamente sono 2 miliardi di euro quelli che vengono persi dal sud nel tentativo di formare attraverso la pubblica istruzione il nostro sistema educativo i propri ragazzi e sono 3 miliardi di ricchezza dispersa questo è l'ammontare in buona sostanza del circuito dei consumi che è legato all'immigrazione scolastica cioè quella parte di giovani che vanno via dalle regioni del sud per tentare di formarsi in regioni che ritengono più ricche o comunque con maggiori prospettive di occupazione l'immigrazione meridionale fa male al sud e genera paradossalmente una ricchezza al nord che abbiamo appunto potuto misurare anche nelle sue conseguenze immediate perché il nord ha bisogno di quel dicevamo prima capitale umano quando si ragiona di questi argomenti è impossibile non sottolineare questa questa Italia questo stivale spaccato a metà le famose due nazioni i due paesi il nord e il sud questo divario che è un divario che deve essere per forza anch'esso calcolato non se ne può fare a meno altrimenti si ascoltano anche delle riflessioni che sono secondo me fuorvianti che non si può dire che non c'è bisogno di capitali al sud di investimenti al sud o che non è questo il problema certo gli investimenti poi devono essere messi in delle condizioni di fruttare questo è un altro argomento ma se l'esodo che io ho citato che abbiamo ascoltato anche in via di permessa è così significativo evidentemente è proprio perché c'è un divario assoluto a cominciare dal divario occupazionale nel sud ci sono il 19,4% di disoccupati nel centro Italia c'è il 10% circa nel nord siamo al di sotto del 7% 6,8,9% di tasso di disoccupazione quindi c'è un divario occupazionale serio e strutturato che non diminuisce se non per qualche decimale in più e in meno che comunque è legato al lavoro instabile o quello come si dice a tempo indeterminato poi c'è il divario infrastrutturale quando si vuole fare un gioco di fantasia bisogna secondo me farsi due domande citare qualche infrastruttura di riferimento presente al nord e poi fare analogo esercizio per immaginare quale infrastruttura significativa sia stata collocata nel corso dei decenni nella storia italiana al sud vedrete a me è capitato farlo e questa è la risposta che mi sono dato che giustamente non critico questa scelta era fondamentale agganciare l'Italia al nord Europa attraverso la cinghia di trasmissione del suo settentrione quindi giustamente lo Stato pensando agli interessi della comunità nazionale agli interessi deboli e diffusi ha investito realizzando grandi infrastrutture nel settentrione d'Italia ci vengono in mente tante grandi avveniristiche eccezionali necessarie strategiche infrastrutture realizzate al nord ma ci vengono in mente poche infrastrutture realizzate al sud e questo accade anche diciamo così perché comunque lo Stato non ha la capienza per fare infrastrutture ovunque dovendo scegliere una strategia ha scelto secondo me quella più efficace esattamente come oggi può essere più efficace per l'economia nazionale per continuare a tutelare gli interessi deboli e diffusi della nostra comunità può essere indispensabile puntare sul meridione non soltanto per migliorare le condizioni di vita la qualità dell'esistenza dei cittadini del sud ma per ripeto offrire all'Italia una sua prospettiva di crescita e di sviluppo perché laddove c'è uno sviluppo non compiuto sul piano per esempio delle infrastrutture è più facile aumentare il potenziale di questo sviluppo c'è un divario nei servizi pubblici che è stato più volte citato anche da chi mi ha preceduto ma è che è comunque inquietante esattamente come gli altri parametri che fin qui ho provato a riassumere abbiamo diciamo così delle classifiche che sono state fatte da vari istituti lo svimez è quello che maggiormente si occupa del sud e che ci dice che immaginando il Trentino Alto Adige come regione virtuosa insieme alla Lombardia e mettendo il numero 100 a fianco la sua capacità di efficienza è bene sapere che nel sud la regione più virtuosa raggiunge il quoziente 60 la Calabria sta a 39 questo nella capacità di offrire risposta ai cittadini che hanno bisogno dei servizi pubblici di quelli sanitari senz'altro ma anche dei permessi per esempio per lavorare per aprire un'impresa per stare sul mercato per essere autosufficienti c'è il divario digitale in questo caso il sud è in buona compagnia perché tutte le comunità montane della dorsale appenninica e anche di quell'alpina sono più o meno nelle stesse condizioni noi siamo quello strano paese che ogni tanto concede le sue reti in questo caso concessioni di telecomunicazioni senza raccomandarsi una equa distribuzione della rete stessa senza effettuare discriminazioni odiose tra i cittadini del sud e del nord da quelli che abitano in montagna rispetto a quelli che stanno in pianura o sulla costa nessuno ci ha pensato nessuno lo ha fatto forse c'era una smania una furia ideologica privatizzatrice che ha impedito di fare le cose sempre con equilibrio e quindi tutelando gli interessi di tutti e cercando in particolare di evitare che alcune fragilità potessero diventare problemi insormontabili torno un attimo sulla disoccupazione perché vorrei darvi questo dato che mi ha fatto accapponare la pelle che è il 60% circa di disoccupazione giovanile tra Calabria Sicilia e Sardegna ma non c'è soltanto un problema di carattere economico ci sono stati diversi studi nel corso del tempo che sono stati calati sulla realtà geografica del meridione d'Italia e sono stati fatti da personalità autorevoli e anche da istituti particolarmente interessanti Max Weber diceva che l'imprenditorialità viene prima del capitale e diceva che l'imprenditorialità si misura attraverso il quotiente motivazionale l'impegno la cooperazione l'organizzazione e quindi non c'è soltanto un problema economico quando si vuole sviluppare e crescere c'è anche un problema di capitale sociale lo diceva anche Edward Banfield nel sud e in particolare nella regione di Roberto Speranza nella Basilicata ha collocato i propri studi e alla fine ha determinato che una civiltà prevalentemente di origine contadina ha dei legami familistici e parentali che di fatto ostacolano o rallentano diciamo così lo sviluppo economico così come ce lo ricorda Robert Potman e ci dice che la carenza di capitale sociale scoraggia lo sviluppo hanno fatto studi di questa natura la banca mondiale l'Ocse la banca d'Italia più recentemente arrivando più o meno alle stesse determinazioni cioè arrivando a dire che c'è basso associazionismo c'è ridotta fiducia nelle persone nelle istituzioni nel sud c'è scarsa partecipazione politica ci sono reti sociali limitate a quelle appunto parentali e familistiche e le conseguenze di questo minore capitale sociale producono una minore efficienza dei servizi pubblici una minore efficacia del circuito dell'istruzione della sanità della giustizia dell'assistenza all'infanzia e della burocrazia in genere e così anche la politica si è resa in qualche misura a questa carenza a questa scarsezza di capitale sociale e vediamo nel sud svilupparsi clientelismo assistenzialismo voto di scambio corruzione cose ampiamente risapute ma comunque che non possono essere assenti da un dibattito sul sud perché perché se c'è un tema di investimenti carenti se c'è un tema di riforme costituzionali e di una diversa architettura dello stato addirittura di una possibile deriva federalista se c'è il desiderio manifestato anche dalle regioni del sud di una maggiore autonomia non possiamo considerare il fatto che comunque gli argomenti in specie sono argomenti che vanno trattati con i guanti di velluto perché c'è questo divario che prima di una stagione federalista a mio giudizio deve essere ripianato per mettere tutti nella stessa condizione e per farlo non servono soltanto i fondi gli investimenti ricordo che negli ultimi anni peraltro il sud ha fatto passi da gigante sulla capacità di accedere ai fondi europei fortunatamente ma è fondamentale che ci sia lo sviluppo di una coscienza civica che ci sia una sensibilità aggiuntiva che ci sia una chiamata a raccolta una sorta di responsabilizzazione generalizzata e quindi lo stato ci deve stare e deve cercare di una volta per tutte debellare la criminalità organizzata e la mafia dal mezzogiorno d'Italia perché altrimenti ogni piano Marshall un altro termine che va per la maggiore negli ultimi dieci anni appena c'è una situazione regionale critica si invocano i piani Marshall beh noi dobbiamo dare centralità al sud se vogliamo provare a crescere e riagganciare l'Europa a contrastare il debito pubblico a far crescere la ricchezza a moltiplicare il PIL ma quando lo facciamo non possiamo non ricordarci che è fondamentale spazzare il campo in quelle aree territoriali dalla criminalità che impedisce il conseguimento di questi risultati concludo non è difficile per chi ha un po' di creatività di fantasia e conosce un po' di storia individuare la vocazione strategica del nostro sud Palermo dovrebbe essere la capitale del Mediterraneo la dovremmo eleggere come cerniera non tra l'Italia e l'Africa ma tra l'intera Europa e l'Africa e dovrebbe vivere anche economicamente forse proprio di questo è una soluzione geopolitica inimmaginabile impareggiabile irripetibile che deve essere messa a frutto e io penso che la vocazione del sud anche nel dialogo con l'Africa debba prevedere una serie di aspetti collaterali la parola che è stata evocata poco fa quella della piattaforma mi fa venire in mente non certamente una piattaforma petrolifera ma una grande piattaforma culturale non solo per la concentrazione di beni culturali e archeologici che ci sono nel sud d'Italia ma anche perché il dialogo la Magna Grecia quindi con la Grecia con i paesi che si affracciano sul mar Mediterraneo con la Spagna il sud d'Europa può essere interconnesso grazie all'azione significativa movimentista incisiva del nostro sud una visione ci deve stare e il sud può essere la piattaforma della ricerca della cultura della formazione universitaria per i cittadini del sud del mondo io penso che gli argomenti siano particolarmente stimolanti e interessanti penso che occorra un po' tutto per rigenerare il nostro mezzogiorno e renderlo parimenti incisivo e concreto nella capacità di risollevarsi e penso che la partita che l'Italia oggi può giocare in una situazione economica certamente difficile obbligatoriamente passi per il sud e che mentre per tanti anni abbiamo celebrato tutti i convegni di origine e matrice meridionalista pensando soprattutto al sud oggi noi abbiamo la condizione storica irripetibile per parlare del sud parlando dell'Italia per parlare del sud parlando dell'Europa e delle sue prospettive per parlare del sud per parlare del terzo mondo e delle sue possibili evoluzioni grazie 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 Presidente Rampelli che ha anche sintetizzato bene il senso dell'incontro di oggi nella sua ultima frase darei appunto la parola adesso al nostro ospite Presidente di Conai Quagliulo che che ricordo abbiamo voluto che fosse presente qui in questo in questo dibattito perché come è stato detto anche all'inizio dell'introduzione nel rapporto ma anche emerso negli interventi il tema oggi della sostenibilità dell'ambiente di qualità della vita quindi di temi di cui il consorzio si occupa anche al sud e credo che vedremo anche delle slide in questo proposito sia parte integrante essendo appunto oggi nell'era dello sviluppo sostenibile di questa ripresa che può passare per il sud e come diceva Presidente Rampelli oggi si può parlare di sud da un punto di vista non meridionalista ma come possibilità di crescita per tutto il paese per cui la parola al Presidente Quagliulo Grazie Quagliolo il mio cognome è parecchio ostico ma sono io non è l'unico purtroppo viene spesso storpiato prima di tutto grazie all'intergruppo grazie al meeting per l'opportunità che ci viene data di poter diciamo esplicitare e illustrare quali sono le attività di Conai soprattutto nell'ottica del meridione e della sostenibilità meridionale che è il tema del convegno odierno io ho sentito tante cose molto interessanti che mi toccano molto da vicino perché nella vita vera faccio la vita vera perché sono prestato alla presidenza di Conai nella vita vera faccio l'imprenditore e come famiglia lavoriamo in meridione dagli anni 50 per cui ho sentito tante cose su cui mi piacerebbe approfondire il dibattito come fruitore dell'area meridionale proprio da un punto di vista imprenditoriale però diciamo non è questo il tema anche se ci sarebbe tantissimo da dire però restiamo sul tema cioè io oggi devo parlare di Conai ho il piacere di parlare di Conai l'approccio di Conai per quello che riguarda il Sud è un approccio di questo genere cioè noi riteniamo che il Sud debba assolutamente diventare un'opportunità e non deve più rappresentare un problema che cosa stiamo facendo noi adesso io direi farei prima una piccola più breve possibile diciamo panoramica su come stiamo operando in senso generale in senso nazionale noi siamo un consorzio di diritto privato che non ha scopo di lucro questo è molto importante sottolinearlo e che fin dal lontano 1997 garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo dei rifiuti di imballaggio rappresentiamo abbiamo consorziate più di 850.000 aziende che sono chiaramente aziende che fanno parte sia della categoria degli utilizzatori che della categoria dei produttori adottiamo un sistema di responsabilità estesa dei produttori che si estrinse che appunto in una compartecipazione e una corresponsabilità sia dei produttori che degli utilizzatori per cui è una responsabilità operativa ed economica per la corretta gestione del fine vita degli imballaggi condividendola con i comuni perché noi non dobbiamo mai dimenticare che i responsabili della raccolta differenziata sono i comuni per cui con loro noi condividiamo la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi fattore fondamentale garantiamo un servizio universale e un servizio in sussidiarietà al mercato il servizio universale che cosa significa significa che noi ritiriamo e avviamo a riciclo tutti i rifiuti di imballaggio in qualsiasi località in qualsiasi posto dell'Italia essi vengano a trovarsi e in ogni qualsiasi condizione di mercato e tutto questo lo facciamo anche a obiettivi raggiunti cioè oltre a quelli che sono gli obiettivi di legge gli obiettivi di recupero li abbiamo raggiunti e li abbiamo superati da tempo noi possiamo senza false modestie sostenere che l'Italia rappresenta un caso in Europa un caso di eccellenza e questo ci viene riconosciuto dai paesi europei non è una non è una una affermazione autoreferenziale se noi possiamo progettare la prima slide in questa prima slide noi vediamo che dal 1998 nel quale solo un imballaggio su tre veniva recuperato ad oggi al 2017 noi abbiamo che quattro imballaggi su cinque messi a consumo vengono recuperati per cui questo significa che il lavoro che è stato svolto è un lavoro di grandissima qualità di grandissimo spessore e soprattutto lasciatemelo dire è un un lavoro che è stato effettuato a costi molto contenuti rispetto a schemi europei paragonabili al nostro nella seconda slide possiamo vedere che l'Italia è uno dei paesi più virtuosi dal punto di vista del riciclo questa è una slide che a me è molto cara perché voi vedete che il tasso di riciclo la percentuale di riciclo è la barra blu la barra rossa rappresenta la quantità di rifiuti di imballaggio che vengono messi a termovalorizzazione recuperati da un punto di vista energetico mentre la barra verde rappresenta la discarica se l'Italia avesse percentuali di termovalorizzazione pari a quelle dei paesi più avanzati guardate la Norvegia la Finlandia la Finlandia è a discarica zero però arriva a discarica zero perché ha una componente di termovalorizzazione assolutamente importante allora siccome nel dibattito di questi ultimi tempi è diciamo quello che emerge con sempre più forza è che dobbiamo andare a discarica zero perché il consumo del suolo è una cosa che non ci possiamo permettere soprattutto in un paese come l'Italia che non è ricco di suoli coltivabili quanto non so la Francia tanto da fare un esempio io penso che questa continua demagogia questa continua demonizzazione degli impianti di termovalorizzazione sia un atteggiamento che debba essere superato perché se vogliamo traguardarci alla modernità questo è un tema che noi dobbiamo assolutamente risolvere in oltre 20 anni di attività noi abbiamo anche diciamo rivoluzionato un momentino quello che era il precedente metodo di gestione dei rifiuti di imballaggio tutto questo lo abbiamo fatto tramite un accordo cardine che è un accordo che abbiamo insieme ai comuni che si chiama accordo quadro Anciconai nel quale noi aiutiamo i comuni sostenendo i maggiori oneri della raccolta differenziata tutto questo avviene per garantire la diffusione dei sistemi di gestione e la via riciclo dei materiali raccolti le principali caratteristiche di questo accordo che vanno anche oltre il dettaglio normativo sono prima di tutto la volontarietà di adesione per i comuni nessuno obbliga ovviamente nessuno a farlo la garanzia come dicevo prima di ritirare tutto il materiale su tutto il territorio nazionale con corrispettivi garantiti legati ovviamente a un tema di qualità non è che il corrispettivo è tal quale ma anche in questo settore c'è una componente qualitativa importante perché la raccolta differenziata non è un fine non è che con la raccolta differenziata hai finito di fare il tuo compito hai risolto i problemi ma la raccolta differenziata è finalizzata al riciclo che è il vero fine di queste operazioni e il riciclo è tanto più efficace tanto più si riesce a farlo quanto più la raccolta differenziata è una raccolta differenziata di qualità soprattutto noi stiamo e qui cominciamo a entrare nel tema impegnandoci soprattutto nelle aree in ritardo le aree in ritardo sono tradizionalmente quelle del meridione un altro tema che è importante sottolineare è la sussidiarietà al mercato che si realizza con delle finestre per cui i convenzionati cioè i comuni hanno la possibilità di entrare nell'accordo o di uscire dall'accordo in funzione del fatto se il mercato è più generoso nel pagare i materiali raccolti rispetto a quello che sono nei corrispettivi pagati dal consorzio se noi vediamo la terza slide ci rendiamo conto che l'Italia è un paese l'abbiamo già detto qui in tutti i modi in tutte le salse è un paese che viaggia se non a due anche a tre velocità noi abbiamo paesi aree del paese dove abbiamo una raccolta che va oltre gli 80 kg per abitante e ci sono aree del paese che sono sotto i 40 kg per abitante ma quando vediamo sotto i 40 kg non è che magari è 39 può anche essere 15 può anche essere 12 cioè la Sicilia purtroppo è un caso emblematico e forse direi è il caso più critico di tutte le regioni italiane per cui il nostro intendimento è che il Sud debba cogliere l'opportunità di diventare un attore in questo tipo di attività perché se non si recupera il divario che c'è con le regioni del nord noi entriamo in difficoltà anche in quelli che sono il raggiungimento dei nuovi obiettivi che ci pone la direttiva europea perché per raggiungere quegli obiettivi dobbiamo aumentare la raccolta e se abbiamo una gamba zoppa ci manca una quota di raccolta e a quegli obiettivi sicuramente non riusciamo ad arrivare persistono ancora forti ritardi voi avete fatto avete dato una visione politica avete illustrato quali sono le principali cause di questi ritardi però bisogna anche ricordare che superando questi ritardi e poi come vi dirò più avanti si può fare tutto questo può anche aiutare ad una crescita economica del meridione perché queste attività creano posti di lavoro creano posti di lavoro creano aziende per cui contribuiscono diciamo a un arricchimento della popolazione e soprattutto anche se vogliamo alla creazione di competenze al mantenimento di specializzazioni di capitale umano come dicevamo prima all'interno dell'area geografica di questo paese per fare questo noi diciamo riteniamo che i principali punti da superare siano una carenza impiantistica che si trascina da ormai sempre e qui diciamo anche qui ci vorrebbe veramente un cambio di paradigma un cambio di paradigma che potrebbe anche essere diciamo realizzato con l'individuazione di soggetti sia istituzionali sia privati cioè si potrebbe anche realizzare una delle cosiddette partnership pubblico privato che aiutino a superare a portare anche questa parte del paese ad avere un livello impiantistico soddisfacente tenete conto che ad esempio per fare un esempio che gli scarti che non hanno altra strada che ora di scarico la termovalorizzazione se si vogliono valorizzare termovalorizzare gli scarti da Sicilia bisogna trasportarli in campagna perché in Sicilia in Puglia in Calabria non esistono termovalorizzatori cioè questo giusto per dare un'idea di quello che poi tra l'altro è anche il turismo dei rifiuti che è un'altra cosa che bisognerebbe combattere bisognerebbe anche diciamo avviare le necessarie attività sul territorio quali progettazione realizzazione creazione di una nuova cultura combattere la frammentazione elevatissima che c'è perché noi ad esempio vediamo che abbiamo un'enorme quantità di convenzioni che però rimangono lettera vuota cioè si firma un contratto si firma un accordo quadro e poi dopo questo accordo quadro non viene riempito i contenuti e rimane lettera morta chiaramente noi ci stiamo impegnando ci stiamo impegnando in termini di know-how di risorse economiche stiamo portando avanti i progetti territoriali nell'area di ritardo per sviluppare la raccolta differenziata e questo è un punto fermo della nostra strategia cosa facciamo facciamo ad esempio mettiamo 5 milioni di euro all'anno sui progetti speciali abbiamo dato ai comuni corrispettivi per quasi mezzo miliardo di euro nel 2017 in crescita del 12% rispetto al 2016 diamo supporto agli enti locali sempre con una particolare sensibilità alle regioni del sud con la progettazione di nuovi servizi di gestione integrata rifiuti sulle fasi di start-up la formazione sia della pubblica amministrazione che dei facilitatori e facciamo chiudo c'ho pochissimi ancora 2-3 punti e poi dopo chiudo se noi guardiamo la slide 4 a questo punto ve la salto perché così acceleriamo questi progetti territoriali hanno dato dei frutti importanti perché noi abbiamo avuto una crescita della raccolta del 6% quale media nazionale ma del 12% nelle regioni del sud giusto per fare così due numeri la media nazionale che è di 72 kg per abitante è arrivata in campagna siamo arrivati a 67 in Puglia a 61 in Calabria a 56 rispetto ai numeri degli anni precedenti che erano decisamente meno significativi abbiamo dove abbiamo riscontrato una grande diciamo volontà politica una grande determinazione da parte delle amministrazioni a seguire quelle che sono le regole per fare una buona raccolta differenziata abbiamo portato dei risultati straordinari e questo è quello che dicevo prima per cui se si fa in certe aree non vedo perché non si possa fare dappertutto qualche esempio Cosenza siamo arrivati al 65% Cattanzaro al 65% Bari siamo partiti in due quartieri di 50.000 abitanti siamo arrivati all'80% di raccolta differenziata e così via Potenza Catania e via discorrendo Un'ultima notazione concludo abbiamo preso un impegno con la manifestazione che ci ospita con il meeting di Rimini per cercare di rendere un po' più verde il meeting di Rimini per cui questo progetto l'abbiamo nominato Remini 2020 dove sta per recycling e l'obiettivo condiviso è quello di rendere questa manifestazione ancora più sostenibile intervenendo in alcuni settori strategici come ad esempio la raccolta e il riciclo dei rifiuti prodotti gli acquisti verdi l'utilizzo di fonti rinnovabili la mobilità e tutto quello che diciamo può contribuire a dare una connotazione green a questa straordinaria manifestazione per cui questo ultimo aspetto ci lega al discorso generale della nostra tavola rotonda io penso chiudo perché così non prendo le rampogne del moderatore e per chiunque voglia approfondire i temi che ho illustrato brevemente vi attendiamo al nostro stand con grande piacere grazie la ringrazio non è le rampogne del moderatore che purtroppo quando si parla per ultimi si ha il vantaggio di avere raccolto tutte le indicazioni ma purtroppo siamo lunghi la miglior sintesi che non farò così tranquillizzo tutti del nostro incontro è il lavoro che ci aspetta secondo me che parte come è stato detto a me ha colpito molto non per nominalismo ma perché storia questo ha colpito molto quasi tutti esplicitamente hanno detto che sono qua per il rapporto con Maurizio Lupi che è stato uno dei promotori dell'intergruppo il metodo dialogo e incontro parte dall'incontro e dal rapporto dopodiché ci può essere dialogo noi siamo per una apertura di credito fino a prova contraria e questo che è un progetto è un'amicizia che dura per quanto riguarda alcuni parlamentari diverse centinaia per la verità dal 2003 ne hanno a prova per cui ringrazio gli eroici che sono riesistiti a discapito dei morsi e della fame e vi do appuntamento ai prossimi incontri del meeting e sicuramente anche quelli dell'intergruppo grazie a tutti grazie a tutti